Ciao, benvenute, benvenuti e benvenuta a tutti. Oggi siamo qui con un'altra delle nostre interviste spiazzanti, curate da Generazione Z, che è un progetto che è sotto al Festival di Voci di Donna, un festival rinomatissimo, curato dal Circolo dei Lettori. Allora, oggi abbiamo un ospite speciale, lei è Lucrezia Bouganet, in arte Lucrez, è illustratrice e comic artist. Non sto a dirvi di più su di lei perché ci penseranno i ragazzi, mi limito a dirvi che questa è una delle interviste spiazzante che il gruppo dei ragazzi con cui abbiamo lavorato si è occupato. Questo è successo grazie a un bellissimo progetto che il Circolo dei Lettori per tutto l'anno ha portato avanti, quindi un progetto che noi di Wonderful Women, Officina della Meraviglia e Muse abbiamo portato avanti lavorando con questi ragazzi su tematiche di inclusione, diversità, femminismo intersezionale, consapevolezza, responsabilità sociale, tematiche a cui loro non erano abituati su cui lavorare. E pensate che dopo tutta questa gran fatica, dopo tutto questo gran lavoro, hanno addirittura costruito degli eventi che sono proprio parte del Festival Voci di Donna. Quindi tutto ciò che sarà altri eventi, tutte le altre cose le potete trovare sui canali di Wonderful Women, su Facebook, su Instagram e sul sito. Vi aspettiamo lì. Buon divertimento! Secondo noi, Lucrez è misteriosa, perché attraverso le sue illustrazioni non si mostra mai fisicamente. Fantasiosa, perché pensiamo che nella sua arte faccia ricorso anche alla fantasia, oltre che ad altre fonti di ispirazione. messaggera, perché grazie a delle immagini riesce a trasmettere molto di più che anche mille parole. Onirica, perché dai suoi disegni si vede come vuole rimandare a un qualcosa di lirico e qualcosa di sognante. Partendo con le domande, innanzitutto, secondo te, perché sei qui? Allora, secondo me, perché probabilmente alcuni dei temi che ho trattato, alcuni dei libri su cui ho lavorato, sono stati di vostro interesse. In un modo o nell'altro li avete letti, siete entrati in contatto con qualcosa a cui ho lavorato e quindi avete pensato che fosse interessante avermi qui per fare due chiacchiere? proprio così? E per te, noi chi siamo? Allora, degli studenti giovani sicuramente incuriositi da un approccio, diciamo, a personaggi che magari trovate d'ispirazione per voi. Allora, volevo farti altre domande più specifiche sul tuo lavoro. Per esempio, secondo te, perché gli illustratori usano spesso degli pseudonimi? Aspetta che mi è sfuggita l'ultima parola. Usano spesso? Degli pseudonimi. Allora, un po' gli artisti in generale, poi. In realtà, probabilmente, perché un po' tutti gli esseri umani, non solamente gli artisti o chi si occupa di illustrazione nello specifico, hanno molteplici personalità. soprattutto oggi con il mondo dei social abbiamo modo, secondo me, di rivelare determinate parti della nostra personalità a seconda di come ci svegliamo alla mattina, di quello che vogliamo comunicare. E queste parti non sono altro che delle maschere. In questo senso, io non do alla maschera un'accezione negativa. Mi sembra anzi un elemento molto interessante perché ci permette di essere poliedrici, di plasmarci a seconda delle situazioni. E questo non significa essere falsi o dare delle versioni di sé che non rappresentano chi siamo. Perché sostanzialmente noi siamo tanto, noi siamo una moltitudine di elementi. Quindi, in questo senso, lo pseudonimo non fa altro che diventare qualcosa di altro da noi. Che quindi si pone su un altro livello. Nel mio caso ho scelto il nome Lucresse perché mi stava stretta la mia identità, diciamo, il mio nome e cognome da carta d'identità. perché quello dava solamente una componente di me. Invece volevo che ci fosse un termine, un nome che accogliesse tutte queste moltitudini di cui vi ho parlato in una parola unica. Amando molto il francese, poi io personalmente ho scelto il nome Lucresse, ma questo quindi va a diventare proprio una sorta di identità che ne accoglie tante altre. Invece il mio nome, Lucrezia Bouganè, è solamente una componente quasi più realistica, concreta di me. E mi dà l'impressione di lasciare poco margine invece a tutto il resto. spero di aver spiegato un po' in modo contorto. Sì, sì, benissimo, benissimo. E volevo chiederti ma chi ti chiama Lucrezia? Va un po' via il... Non so se si è sentita. È un po' scatti. Chi ti chiama Lucrezia? Allora, tendenzialmente mi chiama Lucrezia chi lavora con me, ma non mi conosce magari personalmente. Questo è tipico perché ovviamente inizi a conoscere una persona con il nome con cui questa si presenta. Di conseguenza se non hai modo di avere una conoscenza prima umana e personale finisci con con il dare il nome che hai conosciuto. però io ci tengo sempre a sottolineare che Lucrezia non vuole essere un sostituto del mio vero nome. È proprio più un concetto. Volevo chiederle una cosa sapendo che nel suo lavoro da fumettista è sempre stato ispirato dalla figura di Virginia Wolfe volevo sapere cosa rivedi in lei di te stessa? Allora in realtà io mi sono approcciata a Virginia Wolfe grazie al libro che ho illustrato per copedizioni e ho avuto modo di esplorare un po' questo personaggio che in realtà precedentemente non conoscevo così bene. Sicuramente ha alcuni aspetti in comune col mio vissuto e sono poi gli aspetti a cui io mi sono attaccata per rappresentare le immagini nel libro. Un po' la perdita di una persona amata a livello familiare il tipo di spiazzamento che ne deriva e che poi va a condizionare tutta l'esistenza perché è veramente un elemento che cambia completamente i tuoi equilibri e questo ha oggettivamente caratterizzato il lavoro e la vita di Virginia. Io l'ho veramente sfruttato questo elemento per rendere mie le immagini che sono andata a rappresentare e infatti ho voluto caricarle di questo senso di perdita di crepa che è un elemento che ripercorre nelle illustrazioni. hai mai dubitato del tuo orientamento sessuale? No no devo dire di no sono eterosessuale e non ho mai avuto né particolari dubbi verso di me ma neanche particolari problematiche con orientamenti differenti estrema libertà sono cresciute in una famiglia molto tranquilla su queste tematiche quindi anche a livello di amicizie ho molti amici omosessuali quindi mai avuto problemi ma allo stesso tempo per quanto mi riguarda fino ad ora non ho avuto non ho avuto dubbi rispetto all'eterosessualità e secondo te perché esiste il maschilismo? Eh il maschilismo viene da da molto 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 tempo addietro purtroppo la la civiltà patriarcale a radici veramente veramente penetrate nel nel profondo sostanzialmente deriva da come la la civiltà si è sempre evoluta e si è sempre comportata nei confronti dell'uomo e della donna quindi tutt'oggi noi ci portiamo dietro questi strascichi con tutto quello che che ne consegue ok adesso sempre tornando al tuo ambiente lavorativo noi sappiamo che nel mondo ad oggi non esistono tante donne illustratrici per questo ti voglio chiedere se nel tuo mondo hai mai assistito a delle discriminazioni allora nel nel mio mondo nello specifico per quanto riguarda la mia diretta esperienza no so che che invece purtroppo così come in tutti gli ambienti anche nel nel settore artistico nell'illustrazione nel mondo del fumetto esistono queste discriminazioni però non le ho mai vissute sulla mia pelle o nella stretta cerchia di di conoscenze che ho che fanno la mia stessa professione ok allora puoi parlarci del tuo lato maschile ok è molto presente fin da quando ero piccola anzi quando ero all'elementari io volevo solamente avere i capelli da piccola peste a scodella con grande tristezza di mia mamma che però me li ha sempre fatti avere insomma fatti tenere portavo solo le magliette di mio fratello perché ho un fratello maggiore quindi vestivo come come lui poi adoravo proprio i classici giochi cosiddetti più maschili anche se sono un po' contraria un po' refrattaria a questo tipo di etichetta però diciamo che convenzionalmente più maschili quindi tirare con la fionda giocare nel parco queste cose qua non sopportavo il vestiario tipico femminile i codini il rosa tutti questi elementi quindi ho sempre portato avanti un lato maschile abbastanza presente tuttora devo dire che che lo sento presente non solo nel nel vestiario ma 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 nell'attitudine però ripeto bisogna fare attenzione a fare queste distinzioni perché in realtà poi si finisce con proprio col cadere nelle stesse etichette che si vogliono combattere quindi forse bisognerebbe anche cercare di allentare la presa su quello che è considerato maschile e femminile al di là delle specifiche biologiche e pensare che alla fine siamo individui con caratteristiche soggettive personali e non per forza il mio tirare con la fionda deve essere considerato maschile o il mio vestirmi di rosa femminile anzi io sono una grande sostenitrice dell'abbattimento di queste differenze quindi nessun problema vedere un bambino maschio che gioca con una bambola e una bambina femmina che gioca con il camion dei pompieri insomma proprio da questo punto di vista penso che sia bello seguire la propria natura ok allora alla luce anche di quello che hai appena detto posso già darmi a chiederti se secondo te tu disegni da donna oppure questo lato che appunto definisci più convenzionalmente maschile sia ancora presente e ti influenzi non ho mai pensato sinceramente a come posso essere disegnare da donna o disegnare da uomo non saprei rispondere non non credo che esista questo tipo di di distinzione se vogliamo parlare di una delicatezza di tratto di espressione oppure di una scelta di elementi magari che rimandano al floreale beh esistono tantissimi illustratori uomini che hanno scelto di rappresentare in questa modalità quindi non 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 zarderei come una caratteristica né maschile né femminile alla fine io io disegno come come mi viene e in base ovviamente agli studi che ho fatto e a quello che mi influenza più o meno sia del mondo reale quindi quello che io vedo con i miei occhi andando in giro e che che trovo interessante da mettere su carta sia nel mondo cartaceo quindi di di fumetti di libri illustrati di immagini che che visiono e che che trovo stimolante anzi che trovo stimolanti e che quindi mi piace magari riprendere in un modo o nell'altro anche nel mio lavoro e non mi pongo il problema che siano uomini o donne senza contare che come avete detto anche voi poc'anzi in realtà il numero di artiste donne sembra sempre inferiore a quello degli artisti uomini ma perché sostanzialmente fino a non molti anni fa le artiste donne erano messe veramente non in secondo ma in quinto piano erano proprio nascoste in realtà c'erano erano presenti ma non avevano la possibilità di esporsi tanto quanto gli uomini quindi in realtà ad oggi anche se studiamo la storia dell'arte vedremo che gli uomini sono molto più presenti ma è solo una questione appunto di maschilismo come abbiamo detto prima certo quindi secondo te qual è il tratto che rende riconoscibili i tuoi disegni un tratto molto caratteristico allora questa è una domanda interessante credo che le caratteristiche che forse rendono le mie cose distinguibili siano forse due la carnagione tendenzialmente io utilizzo quasi sempre una carnagione completamente bianca non do tono come ad esempio in in Virginia e in altri lavori che potete aver visto e poi gli occhi anche se ho compiuto una variazione nel corso del insomma del mio lavoro come come è giusto che sia insomma è importante comunque crescere evolversi però l'occhio lo sguardo credo che sia ben distinguibile nei miei lavori perlomeno così spesso mi è stato detto e concordo poi per quanto riguarda il resto mi piace variare comunque quindi anche anche i miei libri hanno spesso stili un po' differenti quindi anche il tratto non sempre identico utilizzo anche magari tecniche di inchiostrazione che quindi è il tratto a china sulla matita differenti per cui questo ovviamente contribuisce a dare anche una resa diversa alla fine fra le cose che faccio e senti ma la parola più brutta che ti possano dire qual è? semplice non sopporto cioè non semplice la domanda semplice la parola non sopporto questo questo aggettivo mi sentirei molto ferita se una persona mi dicesse che mi trova una persona semplice anche quando viene detto in accezione positiva magari volendo sottolineare una genuinità della persona no però per me è un colpo al cuore fortunatamente non me non me lo dice mai nessuno però è una cosa che mi mi crea qualche contrasto perché in realtà preferisco forse ho un'attitudine per le complicazioni anche cerebrali e quindi mi dispiacerebbe che non venisse fuori questo tipo di di meccanismo in realtà mi piace che si veda la macchinosità no interessante c'è un episodio del liceo che vorresti raccontarci cioè del liceo in positivo in negativo indifferente c'è un episodio che ti ricordi che ti senti di voler raccontare una cosa che mi piacerebbe raccontare magari più che un singolo episodio è una dinamica ovvero io ho fatto liceo artistico e una cosa che che ricordo con con grandissimo amore proprio nel cuore è la grande libertà che che si respirava in quella scuola e mi ricordo quando alle medie abbiamo fatto l'orientamento per capire un po' quale fosse la scuola più consona al nostro percorso e quindi ovviamente io sono sempre andata abbastanza bene in tutte le materie quindi diciamo che avevo la predilezione per il disegno però potevo anche seguire un altro tipo di percorso quindi andare a vedere anche i licei classici e scientifici e mi ricordo proprio questo senso di non che abbia niente contro queste scuole ma mi riferisco all'atmosfera cioè proprio anche degli studenti incontrati quindi quasi un senso di di muro fra me e loro un senso di diversità mi sentivo un'intrusa in quel tipo di ambiente e invece ricordo veramente con gioia il l'humus del liceo artistico dove potevi trovare assolutamente qualunque tipo di specifica umana sia da un punto di vista di stile quindi di moda potevi trovare quello firmato dalla testa ai piedi quello con la cresta viola quello con i rasta fino alle caviglie quello normalissimo con la con la maglietta e jeans e comunque ti sentivi parte di di qualcosa no ti sentivi te stesso accettato non sminuito non accantonato messo da parte per via di un tuo gusto personale o di un di un tuo di una tua modalità di espressione quindi questa è una cosa che che ricordo molto molto bene io ad esempio alle medie ho sempre avuto un po' di problemi sotto questo punto di vista perché mi trovavo magari con con le mie compagne che andavano in una direzione un po' più cosiddetta fighetta mentre io amavo magari i pantaloni un po' largoni colorati un po' etnici e avvertivo in certe situazioni gli sguardi degli altri di disapprovazione in un certo senso non solo nel contesto scolastico ma anche in altre circostanze quindi finire al liceo artistico almeno per la mia esperienza ripeto dove non mi sono mai sentita così mai giudicata mai additata mai vista come quella diversa ma in negativo come come spregio questo è stato veramente bello e e comunque ti dà ti dà la forza di 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 credere in quello che sei qualunque cosa tu sia grazie mille e c'è un libro che tutti dovrebbero leggere sì allora da un lato tutta la saga di Harry Potter che per me è stata la una salvezza anche emotiva nel senso che in determinate circostanze tipo un anno andai in Francia a studiare il francese completamente da sola e mi portai Harry Potter perché per me in quella in quella circostanza rappresentava un porto sicuro un appiglio quindi anche come ehm qualcosa di proprio di interiore e poi il libro dell'inquietudine di Pessoa che è un libro abbastanza pesante sotto molti punti di vista ma una volta nella vita va letto nel giusto stato psicofisico altrimenti ha la capacità di di portarti molto giù di farti riflettere veramente molto approfonditamente su alcune tematiche nel fondo proprio del barile sei proprio lì nella melma e quindi devi avere devi essere in uno stato tale per cui hai la forza di di sollevarti una volta chiuso il libro e riposto sul comodino però al di là di questo è veramente un testo imprescindibile secondo me meraviglioso prima di va Giorgia prima di passare alla prossima domanda volevo appunto farti vedere dove va assolutamente il mio portachiavi di ermione che è sempre sulla mia istituzione Harry Potter nel mondo esatto grande Fagno dei libri dei film un po' meno perché hanno delle cose che non mi non mi piacciono però i libri oltretutto io sono cresciuta proprio con Harry perché quando io avevo undici anni Harry aveva undici anni quindi me lo sono portato proprio dietro nella vita insomma quindi lo consiglio sempre come lettura contiene tanti spunti interessanti a proposito di questo volevo proprio chiederti se c'è un personaggio di fantasia a cui ti ispiri troppi troppi sono quasi più quelli di fantasia che quelli in carne ed ossa fin da piccola fin da da quando ho iniziato a leggere i fumetti cioè molto presto e i libri ho sempre amato molto leggere e per me è sempre stato un rifugio quindi ovviamente i personaggi sulla carta per me hanno sempre avuto un'importanza macroscopica proprio viscerale per me esistono a tutti gli effetti non c'è una distinzione fra fra il mondo cartaceo e il mondo reale un personaggio ben fatto un personaggio che funziona è un personaggio che ha delle emozioni che ha una mente che è concreto anche se sei in una dimensione che noi non consideriamo come quella in cui ci muoviamo e viviamo però è una dimensione potrei elencar anzi potrei elencarvi lì da qui fino a domani sia nel mondo dei fumetti che nei libri parlando ad esempio di di Harry Potter Sirius è il mio personaggio preferito fiumi di lacrime alla la sua dipartita e poi un personaggio ad esempio di una serie di libri gialli che amo moltissimo si chiama Adamsberg sono i libri di Fred Vargas che è una scrittrice è uno pseudonimo a proposito di pseudonimi Fred Vargas ed è un commissario francese veramente sopra le righe e vorresti avere il suo numero sul cellulare per scrivergli nel pomeriggio capito quelle cose così quelle dinamiche così poi da quando ero minuscola di Landog della Bonelli Brandon Brandon l'ho amato da quando ho visto una copertina in fumetteria subito preso e sempre Bonelli Sanji di One Piece addirittura alle medie mi ricordo che volevo farmi i capelli come lui e non capivo come mai non potessi averli avendo i capelli ricci e volevo il caschetto biondo come Sanji quasi tutti maschi devo dire a proposito del discorso di prima Balto Balto per me è stata l'ispirazione dell'infanzia non so se lo conoscete il cane lupo non so un cartone che forse voi non avete mai visto è un film d'animazione e comunque è un cane cioè io ho sempre sentito questa grandissima affinità con i cani quindi ho sempre voluto essere un dalmata della Carica di 101 Balto il commissario Rex è stato un periodo della mia esistenza in cui io abbagliavo perché mi sentivo il pastore culesco quindi tutti questi personaggi hanno poi caratterizzato la mia la mia vita Corto Maltese l'ho detto non mi ricordo comunque lui l'ho scoperto solamente da pochi anni perché non l'avevo mai letto da più piccola è un personaggio di Ugo Pratt che è uno dei capostipiti del fumetto poi vediamo Sanzo Sanzo è un personaggio di un manga un altro manga che si chiama Sayuki è un monaco buddista che però fuoriesce molto dalle dinamiche del monaco buddista anche in questo caso mi ricordo che leggevo con molta attenzione i fumetti con i suoi i suoi balun le sue frasi di ispirazione i suoi aforismi e mi sono stati molto d'aiuto in determinate circostanze quindi alla fine hanno caratterizzato la mia crescita mi sono sempre fatta aiutare molto dallo scritto sia nel mondo dei fumetti che dei libri illustrati che dei libri di narrativa più che con il rapporto umano quindi ho sempre trovato più facilità a svolgere analisi introspettive in seguito alla lettura di testi piuttosto che anche solo a quello che può essere una conversazione con un amico e quant'altro insomma alla fine poi anche lo scopo delle opere d'arte aiutarci alla meditazione anche riferita a noi è sempre un buon esercizio grazie mille cambiamo l'esercizio vorremmo chiederti ma c'è qualche parte del corpo che odi se sì quale e qualche parte invece che ah mi piace ok si era bloccato un po' l'audio ma ho dedotto la domanda allora diciamo che invecchiando impari ad accettare anche quello che ti piace meno una cosa che che sopporto con più difficoltà sono i peli come parte del corpo e poi ho una sessione per per la grossezza delle gambe cioè proprio io adoro si vede anche nelle mie illustrazioni le fisionomie molto molto longiline e quindi mi piacciono molto le gambette un po' un po' mingerline come Twiggy la modella degli anni 60 80 e quindi vabbè devi fare i conti con la tua fisionomia e basta ad un certo punto ti arrendi all'evidenza che non puoi scalpellarti le ossa anche se c'è chi lo fa ma vabbè no bisogna bisogna più che altro lavorare sulla più che rifarsi il corpo rifarsi la mente quindi capire che certe cose vanno bene così e su altre è giusto lavorare se si può raggiungere un proprio obiettivo e per quanto riguarda le parti che mi piacciono nulla che amo in modo particolare tipo oh mio dio gli occhi forse perché sono grandi quindi il sorriso come espressione queste cose qua c'è da dire che io amo molto certi difetti ad esempio mi piacciono i denti un po' storti mi piacciono i nasi particolari quindi non 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 amo quella che è la bellezza canonica ma mi piacciono le caratterizzazioni quindi anche le orecchie quando sono magari anche un po' sventolano il loro fascino alcuni denti un po' cavallati perché alla fine anche il sorriso ad esempio appunto è bello come espressione non è detto che uno che magari ha i denti un po' storti non abbia comunque un sorriso magnifico e invece magari uno che ha i denti perfetti che sembrano fatti con la creta magari ti lascia un po' così quindi anche anche il difetto al suo senso e se posso chiederti qualcosa dimmi pure se posso chiederti qualcosa di un po' più imbarazzante qual è la mossa più strana o la cosa che hai fatto più strana davanti a uno specchio ah allora ogni tanto tipo se ho i capelli lavati quindi ho il turbante l'asciugamano in testa magari inverno quindi ho il maglione largo di 25 tagli più grande della mia i pantaloni della tuta me li tiro sopra fino alle ascelle per vedere come come sto in questa posa improbabile quindi con il pantalone tirato sul maglione tutto pieno il turbante mi piace sentirmi ridicola a volte quindi faccio i balletti così davanti allo specchio ma queste cose devo dire che non mi imbarazzano nel senso che non ho particolari patimi a fare cose cose idiote anzi bisogna un po' prendersi poco sul serio secondo me e se ti dicessi di fare un emoji con la faccia e l'emoji che usi di più con la faccia adesso quale faresti? ok allora l'emoji che uso di più e il sorrisino con le guanciotte rosse devo farlo in webcam? prova a farlo sì gli ho tutti chiusi l'ho provata sì se no uso tipo lo stelo con le foglie ma quello è un po' difficile da da riprodurre vero adesso invece ti chiedo di prendere il telefono yes aprire whatsapp e andare sulla tastiera e digitare ci sei? sì digitare in questo momento vorrei e completare la frase con il suggerimento centrale che c'è sopra la tastiera e poi ovviamente dircelo non viene nessun suggerimento no come non hai consigliati no no in questo momento vorrei niente nulla non viene nulla mannaggia eh vabbè no provo a rifarlo anche beh ma è perfetto così perché significa che non hai bisogno di nulla che non vorresti nulla esatto ha un significato infatti profondo esatto vediamola così in questo momento molto molto buddista come come meccanismo non ho bisogno di niente ci sta di niente 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 hai un talento che ritieni inutile puoi fare questa faccia riesco a incurvare tantissimo la bocca è incredibile tantissimo incurvata è vero tipo il rospo non so se l'avete mai visto il rospo depresso questo è un grandissimo talento è anche come un emoji infatti brevetterò le moti con la mia espressione utili e poi un tempo sapevo sapevo camminare sulle mani saprei farlo ancora ma non mi reggono più le le spalle c'è rischio di rimanere tipo anch'io usata a letto per due mesi ok e invece c'è un tratto della tua persona che puoi ritenere deplorevole se sì quale sì tendo a spesso a voler aver ragione e quindi devo sempre fare uno sforzo per per auto mettermi in discussione altrimenti tendo a a voler un po' imporre imporre la mia anche perché se mi scaldo sono la persona che tende ad alzare la voce e ad arrabbiarsi quindi questo non mi piace quando succede cioè vorrei riuscire ad avere un po' più di di calma perché in realtà la fine è anche più più utile ai fini di una conversazione invece l'arrabbiatura con toni violenti invece crea un allontanamento fra le persone quindi alla fine non vieni neanche ascoltato e finisce che non solo non ottieni quello che vuoi ma anzi vieni vieni messo anche a distanza certo è anche più facile rimanere a farsi ascoltare in questo modo esatto ci vuole un po' di savoir fare poi ovvio a volte non è sempre facile e scappa l'urletto col volto paunazzo e vabbè insomma alla fine anche la genetica un po' ci mette la sua quindi sono d'accordo con questa vero azione sì ok sempre tornando al tuo lavoro invece focalizzandosi su questo qual è la parola la cosa che disegni più spesso i volti i volti soprattutto il mio perché la cosa che disegno più spesso sono io oggettivamente mi piacciono molto gli autoritratti li trovo anche una forma di come dire ulteriore indagine introspettiva sono una grande stimatrice in generale delle indagini introspettive forse fin troppo quindi anche nell'autoritratto vedo uno sfogo che magari non ho in altro modo un tempo magari quando ero più piccola usavo il fumetto però pian piano sentivo il peso delle parole di non riuscire a comunicare le parole come avrei voluto quindi piano piano queste parole sono state eliminate e al fumetto alla storia fumetti al posto della storia fumetti è comparsa proprio l'immagine unica quindi l'illustrazione che magari rappresentava un determinato momento della mia vita con delle simbologie che magari capisco solo io riferimenti che magari capisco solo io però in quel momento per me era importante metterli su carta soprattutto in modo come avete detto inizialmente onirico un po' misterioso e celato perché comunque forse è il motivo per cui mi sono un po' allontanata dalla narrazione a fumetti perché trovavo che mi scoprisse troppo e invece ho sempre un po' di problemi a svelare troppo preferisco comunque tenere qualcosa solo per me in quello che concedo agli altri c'è comunque una parte che rimane mia quindi l'illustrazione in questo mi aiuta si può fare anche con i fumetti nel senso però io non ero in grado non riuscivo oddio si è bloccato tutto qual è la parola che usi di più? si è bloccato tutto ripeti la domanda qual è la parola che usi di più? ah io sono bolognese quindi socci lo dico molto spesso che è un intercalare tipico bolognese socci soccia è un po' come dire in tante situazioni sia positive che negative soccia che caldo oppure soccia che freddo oppure soccia che buono un cibo o soccia che fatica lo usi sempre quando vuoi quindi lo dico molto spesso io invece ti chiedo a chi faresti vedere la tecnologia del tuo telefono? a chiunque non ho particolari problemi né particolari siti misteriosi perché io sono ho un po' di difficoltà con la tecnologia sono un po' analogica sono molto più predisposta per le pratiche più manuali e meno monitor e tasti quindi ho sempre l'ansia che in ogni sito che non conosco ci sia un virus pronto a colpirmi rimediabilmente di conseguenza non vado da nessuna parte solamente su tre siti in croce che conosco e basta quindi nessun problema probabilmente ci sarà solamente Etsy Facebook e Instagram e allora io volevo chiederti in merito alla parola che dici più spesso cosa vuol dire socia se hai pronunciato bene sì si può dire perché è un termine scabroso sì sì è quello che si può dire ok allora praticamente deriva da socmel che sarebbe succhiamelo però è usato ovviamente in altre accezioni nel parlato normale ovviamente nei casi più diciamo d'impatto proprio mossocmel però tendenzialmente è soccia o socci per per tutti gli emiliano romagnoli e qual è la cosa più folle che tu abbia mai fatto più folle sì oh mio dio è un po' difficile belle che rotolano più folle bisognerebbe prima quantificare la follia cioè un livello di follia non so tante piccole cose però a mio avviso non sono particolarmente folli tipo appunto per dire andare da sola a studiare il francese sul mio pulmino preso sono andata in questo in questa scuola dove non conoscevo nessuno non parlavo il francese non sapevo niente quindi era tutto comunque cioè il livello di ansia era un po' era un po' elevato quindi quello può essere una cosa però non lo vedo particolarmente folle poi in amore sono sempre stata molto spiccia cioè nel senso quella che se vede magari il ragazzo che le interessa pensa alla strategia per arrivarci non che che aspetta nell'ombra ecco quindi anche lì ho sempre mi ricordo con quelle mie amiche no? si pensava alle varie strategie le varie cose ecco le follie potevano essere tipo prendere l'autobus alla fermata dove sapevo che sarebbe salito il tizio che mi interessava in quel momento anche se non era la mia fermata quindi e poi da lì ovviamente attaccare bottone con una scusa quindi cose di questo tipo però niente di niente di particolarmente fuori di testa ecco sono sempre stata abbastanza pragmatica nelle cose non sono una che si lascia andare a appunto a colpi di testa improvvisi o a gesti troppo impulsivi cioè tendo comunque a riflettere sulle cose e quindi delle due appunto penso a delle strategie penso a delle dei meccanismi e quindi in questo poi la follia un po' si azzera nel senso che la follia è più impulsività da un certo punto di vista quindi diciamo diciamo così e a noi per terminare l'intervista cosa ci consiglieresti come generazione Z perché siamo la cosiddetta generazione Z cosa ti senti di consigliarci allora di per prima cosa di non dipendere troppo da schermi o computer ma di dare importanza al nutrimento che viene anche dal resto che siano che sia anche banalmente una passeggiata quindi cogliere la bellezza con la B maiuscola di quello che c'è in qualunque situazione nella nostra vita perché è solo questione di sguardo anche nel momento più buio nel momento più deprimente siamo in grado se lo vogliamo di trovare un elemento che ci dia la forza un elemento che che rappresenti il meraviglioso anche nella tragedia più catastrofica quindi allenare questo sguardo perché un po' come in un celebre discorso di Peppino Impastato non so se conoscete che ha combattuto contro la mafia ma alla fine è stato ucciso non bisogna adeguarsi alla bruttezza al contrario e alla decadenza all'abrutimento bisogna allenare lo sguardo la mente accogliere il bello e curarlo perché bellezza non è un'accezione data dalle masse data dagli influencer dai fashion blogger bellezza e altro e dobbiamo essere noi in grado di accorgercene e parte anche dalle piccole cose di tutti i giorni può essere un fiore che spunta dietro un lampione dal cemento può essere un soffione che si posa su un corrimano scrostato può essere una persona che semplicemente incrociamo ed è sorridente sono tante piccole cose però ci dobbiamo allenare noi quindi questo sicuramente abbiamo modo di farlo se ci stacchiamo da questi piccoli schermi e se ci godiamo quello che ci arriva anche da altri stimoli abbiamo anzi voi oggi avete tanti mezzi a vostra disposizione quindi non limitatevi e soprattutto secondo me è importante non perdere gli insegnamenti del passato che riguardano anche banalmente determinate pratiche l'artigianato l'arte pratiche legate alla cucina alla falegnameria al cucito quindi diciamo un aspetto sartoriale quindi tutte queste questi antichi mestieri che se non vengono ripresi andranno irrimediabilmente persi ed è un peccato poi anche la natura del mondo ci sta fa parte del gioco però possono essere anche di grande stimolo quindi io ad esempio amo molto dedicarmi al legno al restauro di mobili quindi mi rilassa è una cosa che faccio così un po' amatorialmente niente di 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 elevato però sarebbe bello che che queste pratiche venissero conosciute anche dai più giovani poi è importantissimo anche la tecnologia è fondamentale oggi però c'è c'è anche tanto altro e poi non precludervi quello che può arrivarvi dall'arte dalla letteratura dai film essere sempre curiosi la curiosità fondamentale anche di quello che pensate che non possa piacervi perché magari non vi piace adesso ma vi resterà un qualche cosina un piccolo semino che magari fra 5-10 anni farà nascere un germoglio vi tornerà in mente quella cosa improvvisamente vi piacerà da matti perché poi noi cambiamo variamo costantemente è normale che una cosa che magari ti piace a 30 anni non ti piaceva a 20 figurati te se magari ti piaceva a 10 quindi ci sta ma se noi non ci diamo modo di scoprire queste cose ci precludiamo da soli queste possibilità di ramificare ed è un grande peccato quindi combattere lottosità in favore di una grande apertura verso noi stessi e per noi stessi quindi curiosità innanzitutto ecco grazie mille bene grazie ai ragazzi e alle ragazze che hanno intervistato grazie a Lucrezia Bouganè la generazione Zepa non finisce qui e se volete saperne di più su Lucrezia potete andare sul suo sito lucrez.it e seguirla ovviamente anche sui social i nostri episodi vanno avanti potete trovarne altri se seguite o l'hashtag generazione Z altrimenti trovate sui canali di Wonderful Women Wonderful scritto con due L mi raccomando non è un errore e Facebook e Instagram il nostro sito trovate altri episodi trovate tutte le altre serate che abbiamo in programma grazie è stato davvero interessante è stato un bel lavoro e ci vediamo alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti